È la prima volta che lo prendo, trovo che sia comodo, perché la cosa che mancava a Pavia era proprio il fatto di avere un pullman che girasse dopo una certa ora, soprattutto per chi come vive al Green Campus, ad esempio, la zona del polo di ingegneria, è difficile da raggiungere il centro a piedi. Mi permette a molti più ragazzi di poter venire in centro tranquillamente, facendo anche lunghi tratti, senza dover camminare avanti e indietro, anche tardi la notte. Andare a piedi da una parte all'altra della città a quest'ora, in confronto ad avere una linea, è già qualcosa di molto positivo. Ci sarebbe magari qualcosa da migliorare, per esempio fare più corse, più orari, qualcosa in più rispetto all'Octibus che c'era prima. Magari aggiungendo qualche altra corsa, magari qualche altro percorso. È comodo sia per chi vuole uscire a ballare, sia per chi è uscito solo per fare aperitivo e vuole tornare a una certa ora. Vabbè, comunque una piccola cosa c'è da dire, magari più orari si possono aggiungere, ma ripeto, qualcuno eh, niente di che.